Ciao ragazze, in questo video voglio mostrarvi tutto quello che ho acquistato da calzedonia della nuova collezione avete visto che ho acquistato qualche calzina durante i saldi, diciamo che qualcuna in più rispetto a qualche ero già stata da calzedonia, avevo già acquistato due calzine della nuova collezione poi sono realizzata a calzedonia dopo aver visto su instagram tutte le calzine che dovevano uscire nella nuova collezione, quindi ne ho acquistato altre, e volevo mostrare tutte quelle che ho preso in realtà ne ho preso 5 paia insieme, quindi ho usufruito della promozione dove ne prendete 5 paia e ne pagate 4 più altre 2 che avevo già acquistato, le prime 2 sono quelle da 3,95, in questo caso se ne acquistate 5 comunque una viene gratuita, e avevo preso queste che sono fatte così, quindi c'è tutti i disegni di Minnie e Topolino col cuoricino, sicuramente sono uscite anche per San Valentino, non lo so, o almeno sa tantissimo di San Valentino e nel mood diciamo di questo periodo hanno azzeccato, poi azzeccano con me, azzeccano subito, basta che siano Disney io mi trovo benissimo comunque con le calzine di calzedonia, queste sono leggermente più lunghe rispetto alla caviglia e mi piace tantissimo quando sono fatte così, magari una parte si vede dalla scarpa, era molto carino sono dei colori comunque che ho intendo utilizzare, molto il nero con il rosso, il grigio così che è un po' brillantinoso in questo caso non so, erano carini, le ho prese subito e poi ho preso gli altri, sempre da 3,95, ho notato che ce ne sono anche altre fatte così da 3,95 però quelle non le ho prese, sempre con Topolino e Minnie, infatti c'è una calza a Minnie, una calza a Topolino Minnie ha tutti i dettagli del cuore, della gonnellina e del fiocchetto così in rosso sbrelocicoso invece Topolino e il pantaloncino col cuore, queste sono grigie normale, secondo me queste si abbiano molto facilmente sono comunque tutte taglie uniche, mi piace tantissimo anche quando sono così con il risvoltino, così un po' arricciate mi piacciono tantissimo, appunto mi trovo benissimo con le calze di calzedonia insieme a quelle di Primark sono le mie preferite in assoluto, sia per comodità, sia per resa e poi appunto ho preso le altre 5, che costano ognuno 5,95 euro e appunto una mi è venuta gratuita ho preso questa, che in realtà sono delle calzine molto easy alla caviglia nere che hanno la particolarità di avere questi fiocchetti fatti così inizialmente queste non sapevo se effettivamente mi piacevano o no, però alla fine mi sono lasciata convincere sono un po' stile, non lo so, picnic, non lo so, mi ricordo tantissimo quei vestitini fatti così per andare a fare picnic, sono delle calzine comunque come se fossero quasi in microfibra di quelle molto molto comode, che affacciano il piede e che non danno fastidio poi ho preso un altro paio sempre con i fiocchetti, sapete che l'anno scorso ne ho preso tantissimo e in questo caso le sto prendendo un po' diverse dal solito, le ho prese blu con tutti questi pua bianchi mi piaceva tantissimo questo contrasto questo contrasto fatto così mi piace tantissimo per il periodo primaverile perché incominciavo a vestirmi un po' con i maglioncini un po' tipo stile marinare un po' non lo so, non lo so, mi ricorda tantissimo la primavera perché durante la primavera escono tantissimi maglioncini e magliette con quello stile quindi le ho volute prendere per questo motivo e poi sempre con il fiocchetto ho preso queste qui che sono uno stile un po' più classico perché sono nere e panna davvero molto molto carine queste magari appunto sono più stile classico sono comunque delle calzine che sono leggermente più lunghe rispetto alla caviglia sono leggermente più lunghe rispetto anche a quelle che avevo mostrato prima quelle di Topolino e Minnie queste sono quelle che ho visto per prima ed erano quelle che mi hanno fatto impazzire le volevo subito insieme a quelle con i pua naturalmente poi ne ho preso un altro paio che sono un po' più morbide queste sono leggermente più corte rispetto agli altri e hanno tutte queste perline e tutte queste borchiette un po' luminose davvero molto carine vanno tantissimo di moda comunque le perline ancora quindi ne ho approfittato subito in realtà ce n'era un altro paio un po' con tutte le perline così sparse anche della scorsa collezione però queste erano più particolari proprio perché avevano mini swarovski e poi l'ultimo paio sono queste qui che sono praticamente beige con la particolarità di avere questo fiocchettino che in realtà è quasi una farfallina tutta svelocicosa queste le ho prese beige proprio perché ho pochissime calze beige di solito le prendo così sempre nere, blu, anche rosse, verdi però beige ne ho poche e poi fatte così c'erano anche grigie molto carine infatti l'undicisa tra queste e quelle grigie e anche nere blu se non sbaglio comunque sicuramente nere e grigie c'erano e poi c'era questo colore e ho preso appunto questo perché ne ho pochissime sicuramente aspetterò e vedrò se ne trovo altre di nuovo se ne porto altre calze idonee e se sono molto particolari le acquisto sicuramente adesso mi sono accorta che ho un po' di calze comunque ce ne ho perché ultimamente ne ho acquistate le ultime collezioni anche se devo ancora fare del decluttering perché ne ho fatto già tempo fa perché avevo tantissime calze che ormai erano rovinate tantissime calze che ormai non mettevo più comunque io di solito quando faccio decluttering soprattutto di vestiti li porto in alcune vicino al supermercato dove vado che è quello di Conad dove ci sono dei contenitori dove potete dare comunque la roba per i più bisognosi io di solito faccio così dato che sono comunque vestiti che non è che sono tantissimo rovinati perché anche se ce li ho anche da anni comunque le cose non sono troppo rovinate certo quando sono molto rovinate come le calze che sono comunque un indumento intimo che viene utilizzato molto spesso in alcuni casi li utilizzo anche come strofinacci oppure li cestino direttamente però in realtà la maggior parte delle cose che magari sono ancora un po' nuove oppure cose che non utilizzo più le do sempre ai più bisognosi e niente fatemi sapere cosa pensate di queste calze se le avete già acquistate se ne avete acquistato altre se volete consigliarmelo se vi è piaciuto il video mettete mi piace e a presto ciao ciao